buongiorno si possono compiere opere buone per tanti motivi si può agire anche per il bene degli altri mossi da diverse intenzioni di questo ci parla oggi il brano di luca dal capitolo 7 del vangelo i versetti dall'uno al dieci testo nel quale si racconta l'incontro di gesù a cafarnao con alcuni uomini mandati da un centurione a chiedergli di guarire il servo di costui che era malato e in punto di morte il racconto finirà con la guarigione di quest'uomo per il quale colpisce la tenerezza e la cura del centurione un pagano romano che si interessa del benessere di un proprio servo e tuttavia quello che appare interessante è il diverso modo di porsi di coloro che furono mandati dal centurione stesso da gesù e invece il maestro di nazareth e salvatore i primi vanno a chiedere la grazia perché il centurione merita che gesù conceda questo ecco è uno che ama il popolo di israele è uno che ha costruito la sinagoga insomma è uno che bisogna tenersi buono e uno che vale la pena così rabbonire anche con un gesto clamoroso come la guarigione del servo per i giudei non interessa tanto il bene dell'uomo che viene sanato e tanto meno il bene di colui che chiede la grazia i giudei sono uomini interessati mirano al proprio vantaggio si può desiderare il bene per l'altro per avere per compiacenza dei riscontri e dei guadagni gesù invece compie il miracolo perché è mosso dalla fede di quest'uomo e lo ammira per questo lo mette in risalto la fede è il movimento di un cuore che è grato anche se non riceve quello che desidera e chiede la fede è il movimento di un cuore che si fida dell'altro sapendo che l'altro sa meglio di me che cosa sia il mio bene il centurione si fida di gesù è grato anche solo per il fatto di aver ricevuto risposta non si sente all'altezza non si sente degno ed è questa fede che gesù sottolinea e dalla quale si apre una pista perché possa avvenire la guarigione del servo la stessa espressione che ha usato centurione anche noi la usiamo durante la santa messa non sono degno signore che tu entri sotto il mio tetto lo diciamo davanti ad eucaristia prima di ricevere la comunione tra le mani o in bocca prima di nutrirci del corpo di cristo no noi non siamo degni non lo saremmo mai pienamente non tanto da poter ameritarci qualsiasi cosa da dio ma è dio stesso che ci rende degni perché gratuitamente e guardando solo alla nostra fede si dona a noi e rende la nostra vita una costante guarigione dalle nostre ferite buona giornata